Ciao, come ti chiami e di che cosa ti occupi? Dalila e mi occupo di grafica e marketing e comunicazione. Perché hai deciso di partecipare a B2Bing Live? Perché l'azienda per cui lavoro ha deciso di comunque seguire il percorso della Masterclass, quindi noi da gennaio che seguiamo Ippogrifo, perciò il B2Bing Live era diciamo una tappa obbligata per continuare il percorso. Che cosa ti sta piacendo di più di questa nuova edizione? Quali sono le tematiche che trovi più utili che stiamo trattando? Sicuramente gli ospiti, perché la Masterclass comunque è molto bella con i fratelli Zucca, però diciamo che avere gli ospiti ti dà sempre quella visione, un'altra visione differente. E le cose che mi stanno piacendo di più come argomenti sono appunto rinfrescare un attimino il piano di business e marketing, perché non fanno mai male e perché in una PMI è una cosa che va sempre integrata e va formata sempre di più. Consiglieristi ad altri di partecipare, se sì perché? Sì perché oltre ad essere molto istruttiva è anche molto divertente.